Al cinema Orione sarà proiettato nel prossimo fine settimana il film Uomini di Dio che narra la commovente storia dei monaci trappisti che furono uccisi in Algeria nel 1996. Domani sera alle 21 la proiezione sarà preceduta da una breve presentazione a cura del nostro Luca Tentori. L'ingresso prevede il biglietto ridotto a 3,50 euro. Nella serata di sabato sono previste due proiezioni, quattro invece a partire dal pomeriggio di domenica. Il cinema, lo ricordiamo, si trova in via Cimabue 14 in zona ospedale maggiore. Il parcheggio è gratuito. Gli uscelli siamo noi, il ramo siete voi. Non ho affatto paura dei terroristi e ancora meno dell'esercito. Non ho nemmeno paura della morte, sono un uomo libero.